...e Cogliati, la palla è per Cogliati, due contro tre a desto, Cogliati, ma ancora i drippi, uno contro uno, deve da dietro l'avversario, Cogliati, ancora lui, in mezzo all'area, tiene palla, Cogliati, e Andrea addosso, non si apponta dietro, ma ancora da solo, Cogliati, velocissimo, se ne va, in allunga e beppa tutti, poi viene strattonato, calcio di rigore, calcio di rigore per la Gianna Erminio.